Aiuto, aiuto, arriva, arriva il mostro, non so cosa sia, aiuto, aiuto, arriva il mostro, non so cosa sia, no, no, ho paura, ho paura, ho paura, che paura, no, 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 la luce, ho ancora questa luce, cosa posso fare qui adesso, aiuto, potrebbe per qualcuno, mentre l'altro, no, no, aiuto, 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 non mi faccio male, Aiuto, 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 ai